La donna Chiarabonio è sempre la stessa, secondo me alla fine non cambia mai. Comunque si veste, è sempre una donna femminile, morbida e accattivante. Mi piaceva l'idea di brillare anche in casa, di essere morbidi, di essere belli, anche facendo una vita più tranquilla. L'ho immaginata fluida, ma allo stesso tempo l'ho immaginata attraente. Questa è la libertà più importante e principale per una donna, e poi la libertà della comodità. Secondo me una donna deve splendere sempre, anche nel quotidiano. Quando io salgo sulla terrazza di questa casa e posso guardare lontano riesco a immaginare il futuro, che in questo momento non è così facile da immaginare. Immagino una donna che luccica, che apre le braccia e che abbraccia il futuro. Si Voi O Oh